Per porcini intendiamo quattro specie che fanno parte del gruppo degli Edulis, che sono il Boletus pinofilus, Boletus reticulatus o estivalis, il Boletus ereus e il Boletus edulis. Queste quattro specie sono inconfondibili, in quanto hanno tre caratteri unici. Il primo è che la carne è immutabile. Così anche per quanto riguarda i pori della parte immeniale del fungo, quando vengono toccati non cambiano la colorazione. Un'altra caratteristica è data dalla presenza di un reticolo lungo il gambo e inoltre la caratteristica della sua forma panciuta e dell'odore caratteristico di porcino. Abbiamo detto funghi difficilmente confondibili. Possono essere confusi con altre bolletacee, in particolare quelle della sezione dei luridi o dei calopus, ma basta guardare la carne che cambia la colorazione e la parte fertile, cioè l'immenio, che ha una colorazione che può essere sul rosso oppure altre colorazioni tipiche dei funghi non della sezione edulis. L'unica specie che può essere confusa è il Tilopilus felleus, che però anche lì è facilmente riconoscibile dal reticolo, che ha maglie molto larghe rispetto alla sezione edulis e inoltre la parte sottostante, i pori, che sono generalmente da giorni bianchi e poi tendono ad andare sul rosa. Grazie. Grazie. Grazie.